Ai microfoni di Grosseto Sport, Bakary Sanyan, l'oggetto misterioso tra virgolette perché non l'abbiamo ancora potuto vedere in campo per i suoi problemi fisici. Intanto benvenuti ai microfoni di Grosseto Sport così ti conoscano anche tutti gli amici sportivi. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Bakary. Sì, ora mi sta un po' meglio, sto allenando con il campo, con la palla, però non entrare in gruppo, speriamo la settimana prossima entrare in gruppo, ha detto il prof, però il ginocchio in questo momento mi sento un po' meglio. Hai avuto un intervento, ricorda il ginocchio? Sì, al ginocchio sinistro o destra? Sinistro, sinistro sì. E allora come stai oggi nelle tue condizioni? Cosa si possono aspettare i tifosi? Quando ti vedranno in campo, anche se i medici, i prof, saranno quelli a dare l'ultima parola, però te come stai fisicamente e atleticamente? Fisicamente sta bene, ora sta bene fisicamente, però speriamo quando entri in gruppo cosa senti io, quando si sta bene, te lo dico prof, quando non sta bene, te lo dico anche prof, però se vi senti prima, quando entra in gruppo. Tanto c'è anche il Mise che poi dirà, lo intervisterò poco più avanti, dopo la conferenza stampa, così mi dirà anche le condizioni che si avvicina sempre, anche se domenica scorsa ti abbiamo visto in campo, che mangiavi tra virgolette il pallone, palleggiavi, quanta vogliai di rientrare? Per ore vi senti prima degli... Sì, ma indipendentemente che devo sentire, ma te, quanta voglia hai di ritornare a disposizione e di entrare in campo da protagonista? Secondo me a gennaio, per arrivare in campo sta meglio, quando sta la gamma meglio, secondo me entra in campo in gennaio. Allora posso farti già in netto anticipo gli auguri di Natale e per rivederci a anno nuovo. Sì, 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 grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.